Perché nella polis che meglio conosciamo, cioè Atene, il teatro è teatro di stato. L'attore, l'autore non deve conquistare il pubblico, il pubblico è assicurato dal fatto stesso che è la città il committente e la rappresentazione teatrale fa parte di un meccanismo inerente al funzionamento della città. Le Dionisie, le Lenee a gennaio, le Lenee ad aprile, le Dionisie di ogni anno sono l'occasione nella quale un gruppo ristretto di autori selezionati nel modo che ora dirò mettono in scena dinanzi alla città tutta quanta la loro produzione, mentre le sedi decisionali, l'assemblea innanzitutto, sono relativamente popolate. C'è un assenteismo abbastanza pronunciato, abbiamo qualche testimonianza, sappiamo per esempio che un'assemblea di 5.000 persone presenti era già un'eccezione, era un momento alto rispetto a una popolazione maschile, di condizione libera, di cittadinanza piena, di 30.000, quindi è una piccola parte del corpo civico che va all'assemblea. Laddove al teatro, nei limiti fisici degli spazi disponibili, ci sono tutti. Nel simposio platonico, che è una festa in casa di Agatone, autore di tragedie, festeggiato perché nell'anno 416 ha conseguito il primo premio, ha vinto il primo premio nei concorsi drammaturgici, gli viene detto hai vinto dinanzi a 30.000 spettatori. Difficile che nello spazio del teatro di Dioniso ci fossero 30.000 posti, però è una cifra che vuol dire una partecipazione straordinaria, tanto più che nelle Dionisie, cioè nelle grandi feste le più solenni, le più ufficiali, anche i non-ateniesi assistevano agli spettacoli. E quando si dice non-ateniesi si intende i tanti cittadini delle città alleate o suddite, potremmo dire, con espressione forse più veridica, dinanzi ai quali fare teatro è più impegnativo che non dinanzi ai soli ateniesi, cosa che invece avviene alle lene. Dunque teatro di Stato vuol dire innanzitutto il fatto che il committente è la città e che il pubblico è assicurato, è ovvio che ci sia, è desideroso di esserci e non c'è alternativa, non ci sono iniziative concorrenti. Quello è il luogo di formazione al pari dell'educazione pubblica annuale affidata al leader più importante che celebra i morti in guerra con un tipo di oratoria che noi conosciamo abbastanza bene perché ne abbiamo tre, quattro esempi, il famoso epitafio. L'epitafio è un genere oratorio ben preciso in cui un leader riconosciuto rievoca dinanzi a tutti i cittadini i fondamenti della comunità, della città. È famosissimo quello che Tuscidide fa pronunciare a Pericle nel secondo libro della sua opera storica ed è un testo nel quale, come ben ricordiamo, Pericle spiega come funziona la Costituzione, perché è la Costituzione migliore possibile, in che cosa gli ateniesi primeggiano, perché è giusto il loro impero. Tutto questo, questa educazione civica, in forma diretta, di lezione sulla politica, avviene tutti gli anni. Parallelamente tutti gli anni avviene un'altra forma di educazione collettiva ed è il teatro. Naturalmente il teatro tragico, per primo, quello che viene ufficialmente riconosciuto con gare regolari all'inizio, direi, del V secolo a.C., grandi politici si impegnano nel ruolo molto delicato e importante, anche economicamente gravoso, del corego, cioè colui che paga tutte le spese per l'allestimento, l'educazione degli attori, tutto quello che concorre alla realizzazione dello spettacolo. Quanti partecipano? C'è una selezione. E anche questo è un aspetto che dimostra quanto quell'attività sia un'attività statale, perché sono gli arconti, cioè la massima magistratura civile, che hanno il diritto di farsi mostrare il canovaccio probabilmente, e scelgono e, come dice la formula greca, danno il coro, concedono il coro. Su che base? C'è un celebre passo delle leggi di Platone in cui l'Ateniese, uno dei dialoganti nelle leggi, nei nomoi di Platone, parlando della città perfetta, non parlando di Atene storica, dice Noi saremmo dei folli se concedessimo il coro a chiunque. Dobbiamo prima farci vedere le odai, e forse le odai sono le parti liriche, e poi concederemo di rappresentare a teatro qualcosa, però la nostra Costituzione è il testo più bello. Chi sono gli arconti? Gli arconti sono l'unica magistratura non retribuita nella città di Atene, e quindi sono tendenzialmente persone benestanti, che non hanno bisogno del mistos, del salario, appartengono ai ceti alti. E quindi la selezione di cosa mandare sulla scena, diciamo un po' semplificando, è affidata ad un'elite che è anche un'elite politico-economica, il che determina inevitabilmente scelte che possiamo soltanto intravedere, ma sicuramente orientate. Perché è importante? Stiamo parlando ancora del teatro tragico, non abbiamo ancora affrontato l'altra faccia del problema. Teatro comico, che viene accettato ufficialmente, inserito nei concorsi più tardi. E' importante, nonostante apparentemente tratti una materia remota, mitica. Il tema che viene portato sulla scena è cavato dal mito, direi di più, da miti ben noti. Lo spettatore, in certo senso, è già preparato, perché la materia che viene messa sulla scena gli è familiare. Tante volte viene riproposta di anno in anno dai più diversi autori, con variazioni molteplici. Il fatto che il mito, che è come dire, non è definito dentro cancelli rigidi, non c'è un'unica versione di esso. Euripide, Eschilo e tanti altri, di cui non abbiamo l'opera, attingono a questo patrimonio, ma lo modificano, lo presentano in forme specifiche. E' un mito aperto. Ma anche per un'altra ragione, che queste variazioni introdotte sono altrettanti messaggi, altrettante comunicazioni appena cifrate, appena velate. Parlano dell'attualità attraverso il mito. E' un problema vivente, nella discussione politica vivente. Noi leggiamo nell'epitafio di Pericle, che ho prima ricordato, verso l'inizio, quella tirata celeberrima, in cui Pericle dice che la nostra città è unica come esempio di convivenza perché il ricco e il povero, dinanzi alla legge scritta, sono uguali. però poi aggiunge la violazione della legge non scritta, reca vergogna universalmente riconosciuta. Quindi si coglie benissimo in quella pagina Periclea, Tuscilidea, la dialettica tra la legge scritta come cardine della democrazia, perché tutti possono riferirsi ad essa, e però l'esistenza di norme che la trascendono. Ora, queste norme però sono affidate alla cura di una casta sacerdotale, i Keriuches, e questo è un elemento inquietante per la città democratica. Questo vuol dire che Sofocle, portando in scena l'episodio di Antigone, che appartiene al ciclo tebbano, che tutti conoscono, Eteocle, Polinice, la sepoltura, Creonte, Cattivissimo, inserisce un elemento che è un elemento pertinente al presente, all'oggi. Tutt'altro discorso, potremmo dire, si pone per la commedia. La commedia nasce in forme che ora è inutile definire con precisione, ma certamente ha una genesi popolare, popolarissima, scherzosa, volgarissima, però nell'età di Perigle e soprattutto nei trent'anni della guerra del Peloponneso, quindi dagli anni quaranta del quinto secolo fino alla caduta di Atene, nel quattrocento quattro ha una vitalità letteraria fortissima, grandi nomi, tutti all'opposizione. Noi possiamo, disponendo purtroppo soltanto di undici commedie di Aristofane, ma di una miriade di frammenti anche lunghi di Aristofane Medesimo e di altri autori, farci un'idea concreta del loro schieramento, da che parte stanno. E questo, credo, si spieghi molto bene con un rapporto di clientela, di vera e propria clientela degli autori comici che sono di estrazione bassa socialmente, rispetto a chi dà il coro. Questo è stato, questo fenomeno è stato studiato, è stato anche contestato, spesso gli studiosi non si rassegnano ad avere una visione non euforica, non oleografica della realtà antica, ma i dati disponibili sono piuttosto chiari. Parliamo perciò di un uovo che conosciamo abbastanza bene, intendo per l'appunto Aristofane. Esordisce molto presto, non fa il regista, non gli piace fare il regista, è un lavoro faticoso, però c'è qualcuno che paga il coro per lui e c'è un altro che fa il lavoro, lui scrive, mette per iscritto le trame. Esordisce politicamente con una commedia che va sulla scena, pare abbia avuto anche il primo premio o comunque è stata premiata tra i primi tre, Babilonesi, siamo nel 426, lui ha 19 anni, 20 anni al massimo, ed è il più feroce attacco all'impero atenese. Gli alleati sono schiavi, Atene è città tiranna e li rappresenta come degli schiavi che muovono la mola di un mulino. Si scatena la reazione del più importante politico atenese, Cleone, che deposita una denuncia contro di lui in quanto riconosciuto come autore, teoricamente doveva denunciare il regista perché il regista figura come autore a tutti gli effetti ma tutti sapevano chi era il vero autore davanti al consiglio, davanti alla boulet atenese e viene salvato politicamente dagli cavalieri. Ora, i cavalieri, chi sono i cavalieri ad Atene? Sono contemporaneamente una classe di censo, la più alta insieme ai pentacosiomidimni, insomma, le persone più ricche e sono anche mille militari, un corpo di elite potremmo dire, che ha un cavallo locura eccetera, fanno delle manifestazioni puramente estetiche perché Atene non ha mai fatto una battaglia con la cavalleria e sono in sostanza i garanti della conservazione. erano odiati dice Senofonte in un passo delle elleniche che quando furono chiesti agli atenesi dei contingenti militari da impiegare in Asia al tempo della guerra di Agesilao in Asia gli atenesi mandarono 300 cavalieri sperando che crepassero perché così in quella guerra ci lasciavano la pelle 300 su 1000 è già una bella porzione e noi sappiamo dalle fonti storiografiche che in entrambe le oligarchie quella del 411 quella del 404-3 la cavalleria è il pilastro del regime allora il fatto che Aristofane venga salvato dai cavalieri contro Cleone è un indizio evidente di qual è la committenza per la quale lui lavora ma la cosa ha un seguito dopo essere riuscito a farla franca rispetto a questa denuncia Aristofane mette in scena gli accarnesi gli accarnesi sono gli abitanti del demo di Acarne l'Atene è uno stato regionale non è una città-stato come di solito si dice è uno stato regionale in cui c'è un agglomerato urbano centrale molto importante dove ci sono i palazzi del potere dove c'è una popolazione più attiva economicamente commerci meteci eccetera e poi ci sono i vari borghi che sono dei comuni il vecchio Dreusen diceva comunal ferfassung una costituzione comunale Acarne da sola fornisce 3.000 opliti all'esercito il che vuol dire che è un borgo consistente gli accarnesi nella commedia sono dei democratici a 18 carati contro cui il cittadino giusto di Ceopoli si contrappone perché vuole la pace subito la pace con Sparta la richiesta di smettere la guerra con Sparta è la richiesta tipica dell'oligarchia che non sopporta il fatto che Pericle abbia portato Atene alla guerra contro la principale città capofila di tutte le oligarchie quindi il contadino di Ceopoli vuole quello che vogliono i cavalieri quello che vogliono gli oligarchi e nella commedia che ovviamente ha dei punti estremamente efficaci per incidenza anche una presa in giro di Euripide molto pungente in corso di questa commedia il contadino di Ceopoli stipula una pace separata con Sparta sua personale cioè la città è in guerra ma lui fa pace con Sparta sembra un gioco sembra uno scherzo ma sono gli anni in cui gruppi politici premono andando a trattare separatamente di nascosto con Sparta affinché si arrivi ad un compromesso quindi la trovata comica di questa pace personale del contadino di Ceopoli è una raffigurazione grottesca di qualche cosa che politicamente esiste e ha un certo peso di questo Grazie a tutti.